Ciao, il mio nome è Jessica e sono una docente di lingua e letteratura tedesca. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono molto contenta di aver potuto proseguire con le lezioni che so piacervi molto e soprattutto esservi utili. Come vi dicevo in chiusura del corso di livello base A1, non sapevo se sarei riuscita a creare questo nuovo corso, visti appunto gli impegni lavorativi, però come vi avevo promesso mi sarei impegnata e pian piano, insomma, credo di potercela fare. Purtroppo non so se riuscirò a garantire una cadenza settimanale, quindi il mio consiglio se non lo avete ancora fatto è di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella in modo che quando usciranno di volta in volta le lezioni verrete avvisati subito con una notifica. Per chi già ha seguito e completato tutto il mio corso gratuito di livello A1, questa ne è la naturale prosecuzione. Per chi invece fosse capitato qui per la prima volta e soprattutto fosse un principiante assoluto, il mio consiglio è, se non sa che cosa sia un modale, un verbo separabile o soprattutto una declinazione dell'articolo, è meglio ricominciare, anzi cominciare, dalla lezione 1 del corso di livello base A1. Perché in queste 20 lezioni è vero che ripeterò molto di quanto detto prima, ma moltissime cose le darò già per assodate, diciamo così. Molto brevemente strutturerò questo corso esattamente come l'altro, ovvero 20 lezioni, diciamo a gruppi di 5, dove al termine di questo gruppo di 5 lezioni ci sarà sempre una lezione di riepilogo di quanto fatto nelle precedenti. Riepilogo inteso con esercizi, correzione e spiegazione delle varie particolarità. Bene, la lezione di oggi verte sui sostantivi, ovvero il nome. Ho scritto il nome per semplificare, sapete che a me piace semplificare, perché io ci tengo che capiate quello che dico, non mi piace riempirmi la bocca di paroloni che fanno tantissimo effetto, ma in realtà poi non servono a niente. Quindi molto semplicemente un sostantivo linguisticamente è quella classe di nomi che indicano persona o cosa singola o collettiva, quindi non è un aggettivo e non è un verbo, il nome. Oggi vedremo insieme, è una lezione abbastanza soft per ricominciare, la formazione del plurale dei sostantivi e esamineremo un pochino le parole composte, che come ben sapete in tedesco sono moltissime. La prima cosa che vorrei vedere con voi è la formazione del plurale dei sostantivi. Parto subito con una brutta notizia, mi dispiace. Purtroppo queste non sono regole fisse. Allora, ovviamente sì, di queste parole sì, però sono esempi di come possono essere i plurali, ma non esiste una regola fissa per la formazione del plurale. Quindi, salvo alcune particolarità ed eccezioni, come abbiamo visto per quanto riguarda gli articoli, e se andate a vedere una delle mie primissime lezioni nel canale, quando parlo degli articoli determinativi, spiego anche come poter, diciamo, riconoscere quelle parole che hanno l'articolo sempre uguale. Ad esempio, le parole che terminano in ung o ng, hanno sempre l'articolo di, eccetera. Andate appunto a vedere quel video. Però ecco, come vi ho detto sempre ormai fino alla nausea, di memorizzare sempre sostantivo più articolo, consiglio anche di aggiungere, fare un upgrade, aggiungere anche il plurale. Se vogliamo posso darvi due microscopiche piccole notizie, una la sapete già, la parola plurale ha sempre come articolo al nominativo, ha sempre di, ok? Sia che la parola sia, 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 sia maschile, sia femminile o sia neutra. Quindi al nominativo l'articolo è sempre di, questo, d, i, e. E l'altra buona notizia è che si possono fare dei piccoli raggruppamenti dove, diciamo, all'ottanta per cento le parole di questo tipo simili hanno questo tipo di plurale. Purtroppo non si può dire al cento per cento, all'ottanta per cento. Andiamo a vederne alcune. Allora, quando trovate questo segno, perché, come vi ho spiegato anche nella lezione che ho fatto sul come cercare i termini nel dizionario, non sempre trovate il plurale scritto, ma per risparmiare spazio o per scelte stilistiche delle varie case editrici potreste trovare questi segni e lettere. Allora, ripeto, l'ho già spiegato nell'altro video, comunque, giusto per rivederlo. Immaginiamo di trovare, appunto, la parola zum Beispiel der Spitzer. Der Spitzer è il temperamatite. Oppure das Fenster, che è la finestra. Quando troviamo questo segno, significa che il plurale rimane uguale. Ok? Quindi, zum Beispiel der Spitzer, quindi il temperamatite. Attenzione, la cosa che però, anche se c'è il segno di uguale, è la parola, il sostantivo che rimane identico. L'articolo, ovviamente, cambia, come ho detto prima, è sempre di al nominativo plurale. Also, der Spitzer, die Spitzer. Das Fenster, die Fenster. Domanda, come faccio allora in una frase in tedesco a capire se si tratta di una parola al singolare o al plurale? Allora, ci può venire in aiuto l'articolo, ok? Che è diverso. O il verbo. Per esempio, das Fenster ist, è, die Fenster sind, sono. La seconda domanda che potreste farmi è, ok, grazie, se abbiamo l'articolo originale al singolare dea o das, va bene, ma se in caso ci fosse un di, allora, in questo, piccola cosa, il novanta, prevalentemente, prevalentemente non è tutte le parole, quindi il novanta per cento dei sostantivi che presentano questa particolarità di mantenere invariato, quindi singolare e plurale, sono maschili e neutri. Ok? Quindi diciamo che questo ci viene già in aiuto perché appunto presentano il singolare o dea o das. Oltre al segno di uguale potreste trovare anche semplicemente un trattino e anche in quel caso significa che la parola rimane uguale. Quando troviamo trattino più umlaut sopra, cosa dobbiamo fare? Allora, c'è solo un trattino, non c'è nessun'altra lettera e c'è l'umlaut. Quindi significa che la parola rimane invariata, però aggiunge l'umlaut. Domanda, dove la mette quest'umlaut? solitamente sulla prima vocale disponibile. Allora, dea bruder è il fratello, plurale ovviamente di, quindi la parola rimane uguale, bruder, bruder, ma aggiungiamo umlaut, qual è la prima vocale disponibile? È la o, quindi mi diventa u, di, bruder. Ok? Con questo andiamo abbastanza tranquilli perché significa aggiungere una e. As for example, das Heft, che è il quaderno, die Hefte, con la e finale. Vedete? Abbiamo preso, il trattino è come se fosse la parola. Ok? Alla parola aggiungiamo una e. Qui abbiamo questo, umlaut, plus e, che è un po' la somma di questi due. Allora, vediamo la parola sedia, der Stuhl, ricordiamoci la H, ci allunga la vocale, Stuhl. Cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo, alla parola, aggiungere una e in fondo e poi mettere l'umlaut. Prima, in questo caso, unica vocale disponibile è la o, also, die Stühle. Ok? Umlaut, plus e. Diciamo, questo cambiamento avviene per i sostantivi prevalentemente. Poi non dite, Jessica ha detto che tutti i sostantivi con queste caratteristiche sono maschili e neutri. No, prevalentemente maschili e neutri. Andiamo a vedere quest'altra particolarità. Qui si aggiungono e. R, umlaut, e. R e sono prevalentemente neutri. Il primo caso, che è quello più famoso, das Kind, il bambino, aggiungiamo E. R, also, die Kinder. Ok? Das Kind, die Kinder. E ci ricorda un po' l'inglese, no? Qui aggiungiamo, umlaut, e. E. R, il caso più famoso, der Mann, die, me, perché abbiamo aggiunto la, umlaut, i due puntini, n, Mann, er, in fondo, die, Männer. Abbiamo quest'altro gruppo che aggiunge la n, la en, o n, e. N. E sono prevalentemente femminili, soprattutto questo. questo secondo me è il 95%, sono femminili. Also, zum Beispiel, die Tafel, die Tafel è la lavagna, aggiungiamo una n, also, die Tafeln, die Banane, la banana, ovviamente, aggiungiamo n, die Bananen. potrei dire che un buon 80% dei sostantivi femminili che terminano in e aggiungono en al plurale proprio perché se no sarebbero uguali. Ok? Stando alla mia esperienza, diciamo che un buon 80%, 90%. E poi abbiamo quello più famoso per creare il femminile plurale, Nen, die Lehrerin, che è l'insegnante, die Lehrerin, Nenna, quindi aggiungiamo Nen in fondo. E poi ci sono i sostantivi di origine straniera che vengono utilizzati nella lingua tedesca che solitamente aggiungono una S al plurale. Ad esempio, das Foto, es wird, die Fotos, ho sentito molte volte anche dire PIZZAS, fa stranissimo a me sentirlo dire, oppure, essendo una parola, diciamo, importata, straniera, ma femminile, anche di PIZZEN. Ve lo giuro, sembra una presa in giro della lingua tedesca dire di PIZZEN, ma in realtà l'ho sentito, sia PIZZEN che PIZZAS. Io spiego sempre che è meglio dire PIZZA o PIZZE. Però ecco, sappiate che potreste sentirlo dire al plurale in questi due modi. Ok? Quindi spero che questo schemino vi sia un pochino utile, però mi raccomando, come già detto, il plurale non segue una regola fissa, quindi memorizzate ogni volta con un nuovo sostantivo sia l'articolo sia il plurale. Andiamo ora a vedere quei sostantivi che sono super caratteristici della lingua tedesca, ovvero le parole composte. Qui abbiamo una serie di parole composte. Andiamo però ad analizzare come si crea una parola composta e soprattutto quale articolo si utilizza, perché anche questo è importante. se c'è una parola composta da due sostantivi che hanno due articoli diversi bisogna capire quale e come utilizzarlo. Allora, anche in italiano ci sono delle parole composte, non ne abbiamo tantissime, anche perché molte delle parole italiane sono già a volte parole composte di origine greca o latina e quindi sono già diciamo fuse insieme e spesso non sembrano nemmeno parole originariamente composte. Quella che mi viene in mente subito è repubblica che deriva dal latino res pubblico ovvero res cosa pubblica una cosa pubblica. Una parola invece composta italiana è capo stazione che può essere allora la parola è il capo la stazione però in italiano è il capo di che cosa della stazione quindi la parola importante è quella prima ovvero capo infatti può essere il capo stazione o la capo stazione ma il la del femminile è riferito al capo donna e non alla stazione mentre invece in tedesco è al contrario allora vediamolo qui la parola composta assume il genere quindi in caso del tedesco o maschile o femminile o neutro della parola base detta Grundwort appunto parola di base che è sempre in ultima posizione quindi la parola importante l'ho già detto mille volte in una parola composta in tedesco è sempre l'ultima quella in ultima posizione al contrario dell'italiano appunto la parola a sinistra della Grundwort ha la funzione di specificare la parola base viene pertanto definita Bestimmungswort anche questa è una parola composta Wort Bestimmungswort e porta l'accento della parola quindi ecco se siete indecisi dove va accentata una parola composta sulla Bestimmungswort appunto Hausaufgabe Aufgabe è compito Haus casa quindi compito a casa questa è la parola più amata dei miei allievi in italiano abbiamo compito a casa compito per casa eccetera stadtplan pianta della città quando si vanno a creare delle parole composte alcune hanno bisogno di mettere una n o una s tra i componenti per una questione di motivi fonetici per esempio la data di nascita in italiano è la data di nascita la nascita la data andiamo a creare questa parola andiamo a creare esiste già con in mezzo la s come vedete hanno due articoli diversi uno di genere femminile uno di genere neutro la parola importante è quella in ultima posizione in questo caso das datum alzo l'articolo è das di sonne il sole ricordiamoci che è femminile di brille sono gli occhiali da sole gli occhiali di sonnen brille in questo caso non c'è grossa difficoltà perché l'articolo è uguale di di quello che abbiamo visto prima i compiti questi sono articoli simili però non è solo sostantivo più sostantivo ma può essere anche aggettivo più sostantivo e sostantivo più verbo allora in questo caso abbiamo aggettivo kos und die statt qui non c'è nessun problema per quanto riguarda l'articolo perché se non ce n'è solo uno è per forza di e andiamo a creare la parola kos statt che in italiano non si traduce con città grande ma con metropoli la bicicletta fahren plus das rad das fahrrad la bicicletta appunto ok quindi per riassumere la parola importante è sempre quella in ultima posizione quella appena prima è la bestimungswort quindi quella che va a specificare la parola base essendo la grundwort la parola importante tutta questa parola composta prende l'articolo della parola base altra particolarità tra un sostantivo e l'altro possono esserci anche una n o una s non si creano parole composte solo con due sostantivi ma anche con verbi e sostantivi o aggettivi e sostantivi tutto chiaro? bene per oggi abbiamo finito abbiamo visto due piccole cose sui sostantivi che insomma tanto piccole non sono perché vanno diciamo imparate e capite per poter proseguire perché altrimenti poi si rischia di fare errore sia nella scrittura che nella comprensione anche di una parola sono contenta di avere cominciato un nuovo corso con voi e vi do appuntamento quindi alla prossima lezione bis bald